Grazie. Un testo unico è secondo noi un impegno importantissimo. L'INAIL gestisce da molti anni le problematiche connesse alla mia, nel qualificata, nel controllo, nel giudizio sulle malattie sbesto correlate. Segnare che il problema è un problema molto complesso, molto interdisciplinare, efficace. E quindi con questo lavoro noi abbiamo accumulato un insieme di conoscenze e di esperienze direi abbastanza unico. In sostituzione magari di un'altra tecnica, la microscopia ottica, al contrasto di fase, di cui si parla pure, ma che qualcuno magari... ...che vogliono rimuovere l'amiato e utilizzare questo petto di posta. Io credo che questo sia un buono strumento.